Rieccoci qua ragazzi su Bioshock Infinite Andiamo avanti No, non mi unisco Ok, ora siamo finiti in un mondo dove Noi siamo dei martiri Wow Ah Cristo, quanto fa male Fallo Ok Devo capire però chi cazzo siano i nemici E chi gli amici Mi sembra che alcuni siano immortali Ma vabbè AIA Oh, oh, oh Oh, brutto pazzo Oh Oddio Ok Ora Dobbiamo andare per di qua immagino, vero? Sì Ok Sali al massimo Eh, direi di comprare un po' di Non della vita Neanche di sali Ma di munizioni in generale Al max, al max Oh, tutto al max Ah no, ecco Il cannone portatile Ok La pistola Ok Ecco Due munizioni del lanciarazzi Oh Munizioni mitragliatrice Quella che abbiamo adesso Ok, possiamo andare Almeno Spero Allora Allora Oh, letale fuga precipitosa Imbriata dall'uomo Usata per domani Ok Ok Ce l'abbiamo fatta Sembra di sì Non so se ti ho portato in un mondo in cui i Vox avevano le armi Oh Se l'ho creato L'hai creato Mmm Oddio Oddio il nemico Cristo, quanti nemici Oddio Ok Immagino che si vada per di qua, no? Sto cazzo Però noi Passiamo comunque Controlliamo Vabbè Va Vabbè Chi se ne frega Andiamo avanti Vieni qua Ok Torna l'armeria Bisogna andare Ah, beh Lì dentro Ok No, non li usi Vigor Ok Beh Oddio No 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 No, non volevo che succedesse questo Elizabeth Sono morto Booker Forza Andiamocene di qua Andiamo alla fabbrica e prendiamoci il dirigibile Beh, andiamo Non è responsabilità nostra Niente Oddio Ho sbagliato Tascua Hai solo aperto una porta su questo mondo e ci siamo entrati Ne sei sicuro Ne sei sicuro Ok Ti ho portato in un mondo in cui Chen Lin era vivo O L'ho creato Non lo so Non lo so Non lo so È tutto un fottuto casino Elizabeth Wow Ok Elizabeth Devi capire una cosa Non ci sto capendo un cazzo Quindi non mi chiedere qualcosa che non so Oddio Ok Spariamo a tutti ragazzi Oddio Ok Andiamo Prendiamo munizioni va Ok Andiamo 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 Ragazzi Crea Crea quell'automa Va Oh No 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 Ia 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 Ah Razzo Aia Fai male Adesso D'accordo Dai Spara Sì Grazie Grazie mille Oddio È ancora in vita No Ma da dove cazzo partono Ah da lì Wow Fallo Va bene Per chi Per me Scusa È tutto quello che ho Grazie Minchia Devo dire che questi box Sono abbastanza utili Da dove Da dove Ok Ah qua Quindi Dai Aprite per favore Che voglio spaccare le teste a qualcuno Wow Che bella faccia Sono morti tutti Non possono aprire quella porta Se qualcuno non elimina il dirigibile Ci offriamo volontà Eh beh Un po' Dai un po' Aia Ah Cristo Andiamo Se trovo la strada Ok forse è questa eh Perché non spara Cristo Che cazzo è successo Ok Scusate L'imprevisto Non so che cazzo sia successo Sinceramente Ok Merda Dove andiamo? Cristo Santo La cosa non mi piace Ragazzi Non sto capendo dove Di diavolo Stia andando Ok Non credo Devo capire bene Come andare Oddio Ragazzi Però Sinceramente Io ve lo dico Non lo so Ok Di qua Io Ok Proviamo l'atterraggio morbido No vero? Si Eccoci qua Dobbiamo salutare il motore E fare atterrare questo Cosa Oh Cristo Pieno di nemici Scusa Ok Andato Con la mitragliatrice Non ci romperà più Le palle Meno questo Dai Wow C'è un patriota Patriota No Cristo Ma cosa faccio di male? Le ho tutte contro di me ragazzi Tutte sfige Crepa patriota Aspetta a dirmi che hai le munizioni Ora Molte grazie Oh patriota Andato Uh Non c'è razzi No vabbè Inutile Ragazzi Poi ci muoio io Mi suicido Quindi Ok Controlliamo il corpo Ma perché Sabotarlo? Ah beh E' vero Dobbiamo aprire il cancello Però Avrei un'altra idea Sinceramente Forse E' più Interessante Della tua Perché Non usiamo questo Proprio per scappare Wow Ok Ora si scende da qui Si scende da qui? Oh mio dio No Oh mio dio Oddio Ora scendere Ok Visto che balzo Eh lo so Andiamo a trovare Daisy in fabbrica Vai andiamo Wow Solo uno tra finché la Fitzroy Vedrà l'alba Oddio Aiuto Aiuto Ok Campo di battaglia Ragazzi Tutti a combattere Insieme a noi Ah Per una volta Grazie per le munizioni Ah Aiuto Aiuto Lancia razzi Malefico Ok 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 ora Non credo che quello ci aiuterà Wow Dobbiamo salire con quella scena Cappello Mani veloci Uh Figo Usiamolo Ragazzi usiamolo Proviamo Minchia Quanto va più veloce Ok Prendiamo un po' tutto quello che troviamo Ragazzi Come un po' Come al solito No Già abbiamo poche munizioni Per la nostra bella pistola Super forte Ok Si sale Oddio Oddio Produco univigore adesso Wow Cavallo pazzo era Oddio C'è una catena di montaggio Tutta automatizzata Praticamente Sono fatti l'uno per l'altro Non è vero Chi La Fitzroy e Comstock Non lo so Però Sei disperata Mai Lin Signor Lin Mi Oddio Io Ero concentrata su Parigi E Non pensavo che Non potevi sapere Che sarebbe successo Ho avuto una parte In questa catastrofe Se tu Vuoi far finta Che non c'entriamo niente Sei libero di farlo Ma Dai calmati Cristo Ah Rispondiamo Sì Fink Ti ho visto morire Booker Con i miei occhi Fitzroy Senti Ho le tue armi Sono qui per il mio dirigibile Ma il mio Booker DeWitt È morto per i Vox Populi Tu sei un impostore O un fantasma Il mio Booker DeWitt È un eroe della causa Una storia da raccontare ai bambini Tu 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 complichi solo la storia Mmm Ah Ahem Vorrei dire Siamo nei guai E non mi Non guardare così Perché Siamo nella merda Salve ragazzi Vieni fuori dove Oh no Cristo santo Madonna Quindi tutti ci odiano Allora Bello Bello Fantastico No no Devo dire Fantastico Beh ci stava anche questa Oltre alla polizia Oltre a tutto Eh ci stava anche Una rompicoglioni Come la Fitzroy E il suo Iomini Giustamente No beh Deve rompere anche lei Se no Non avrebbe molto senso Lasciarla nella storia No Allora Abbiamo preso tutto Qua tutto Ok Ok Possiamo andare Allora Molto probabile Eh infatti Di là Puoi aprirmi Elisabeth Dammi un secondo Che 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 vigor è Oddio Vigor Wow Che Che schifo Beh Peggio di quello del fuoco Vabbè Ok Voglio vedere però Wow Figo Ok Sì no Molto figo Questo Questo vigor Mmm Cazzo Sembra una stanza Di un boss Lo sapevo No Basta No No È pazza Uccidete gli impostori E poi bruciate i corpi Wow Ok Questa qua non sta messa molto bene Incendiario No Oh figo Ma mi spazzate veramente Wow Cazzo Il posto Fighissima sta mostra Aiuto Ahia Beh Acqua e fuoco ragazzi Proviamo Non ho trovato ancora niente Non lo so se noterò io o noterai te Ahia Però sto crepando Mi trovi la vita? Grazie Ok al volo Va bene così Ok Ah Ah Al cuore dell'inferno Dove Oddio Cosa è tutto quello che ho Ah Cristo Oh Oh mio dio Laggiù Quello là Crepa No Non ti faccio esplodere vicino a me Mi dispiace Da dove sparano? Morta a Comstock Ok Oltre a questo Come si entra? Ahia Da dove mi sparano? Dai là Ok giustizia Va bene Eh dammi Grande Grazie Grazie Ma non capisco da dove cazzo mi sparino Sto crepando Oddio che cazzo succede? Perché ho la pistola infuocata? Andyman Attento Andyman Ma no Ma non ho fatto niente di male Cristo Cosa ho fatto di male? Ah Fai molto male Andyman Cristo Cristo Corsa 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 Via 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 Corri 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 Scappa 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 Non rompere la minchia te Merda non riesco a beccarlo Ah Ah no Non ho la scorsa elettrica Devo beccarlo lì al centro del petto Cristo ho quasi finito i colpi Ah Ia 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 Ho quasi finito la vita Oh Oddio Oddio Un po' di calma Dai un po' Un pochino di calma Cougar guarda qua Grazie Molte grazie Grazie mille Madonna che casino Ok Da dove sparano ora Ah Ok Andiamo Anche se non credo Che questa Sia la strada giusta Però Guardiamo attentamente va Ok Poi sopra Ah Munizioni No Sopra 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 Qua Qua Ma dai ma povero bambino Eh dimmi te cosa Dobbiamo agire Dobbiamo entrare là dentro Ok Forza Booker Dobbiamo fare qualcosa Spingimi in su In su Ok Se muori Ok Va bene Oddio E questo Il tuo movimento è questo Daisy Questo è quello che va fatto Vedi I fondatori sono come le erbacce Se li tagli e basta Ricrescono Eh beh Se vuoi liberarti delle erbacce Devi estirparle con tutte le radici È l'unico modo per essere sicuri Grande Tranquilla Tranquilla Elizabeth Hai ciso una pazza Dai Piano Piano Ehi Ehi Piano Ok Ragazzi Oddio Adesso no Riscappa di nuovo da sola Oh no Oh Stupida bambina So Come ci si sente Dai Guarda Credo che dovresti parlarmi Perché non esci semplicemente di là Guarda che andiamo a New York eh Ok Andiamo a New York Stiamo andando a New York Ti consiglio di uscire Se no andiamo a New York eh Chi Elisabeth Cazzo Ok Ok Ascolta Come hai fatto Come ho fatto cosa A dimenticare Come fai A cancellare le cose che hai fatto Dai oh tranquilla Cristo questa qua Questa qua è pazza C'è pazza Ecco il momento della verità Tra noi New York O Parigi New York Oddio No 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 Ma che diavolo Forza dobbiamo fare andare più veloce questo affare Ma che Oddio Cos'era Una specie di manetta Una specie di manetta Una specie di manetta di acceleratore Una specie di manetta di acceleratore Oddio Ma aiutami a trovarlo Oddio No 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 Oddio Cosa sta succedendo Emporia Emporia Ok Va bene Emporia Così non va Certo che si No 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 Non loro due Non loro due Perché No Non lo è No Non lo è Riprova No Prova tu Bene Basta Oddio Fermatevi Non sapete quello che fate Eccola là L'avete fatta grossa Sta tornando Lui sta tornando Le note erano corrette Lo strumento non lo era Servono entrambi per avere la sua attenzione Ma se sai come cantare per lui Lui vi porterà dove dovete andare Ok Chi siete? Siamo dove serviamo E serviamo dove siamo Così Comstock usa queste canzoni Ce ne sono altre che possiamo usare Per tenere lontano Songbird Dovresti chiederlo al maestro stesso E dov'è? Dove? Certo Almeno hanno lasciato il pianoforte Allora Cerchiamo di capirci Quindi Loro due Cioè Usando le loro parole Sono dove servono E servono dove sono Ok Non ci ho capito ancora un cazzo Chi sono? Comunque ragazzi Per questo episodio Di Bioshock Infinite È tutto Come sempre Se il video vi è piaciuto Mettete mi piace Iscrivetevi al canale E al prossimo video Ciao a tutti ragazzi Grazie